oggi mi metterò alla prova con le fave dei morti gli ingredienti sono 200 grammi di farina di mandorle 100 grammi di farina 100 grammi di zucchero un uovo 30 grammi di burro la buccia grattugiata di un limone un pizzico di cannella e un pochino di liquore io ho scelto l'amaretto in una ciotola mescolo le farine e lo zucchero poi aggiungo gli altri ingredienti quindi il burro un uovo mescolo la cannella e la scorza del limone per ultimo aggiungo il liquore devo ottenere un panetto morbido ma granuloso poi creo delle palline le schiaccio un po' e le metto su una una teglia ricoperta con carta da forno quindi le metto in forno a 180 gradi per 15 minuti circa le fave dei morti sono pronte speriamo bene bene e grazie grazie